Bella raga, battiamo 4-0 la Salernitana con una quadrupletta di Lautaro Martinez che ormai è diventato un bomber incredibile, è entrato nella ripresa, ha schiaffato 4 papine, però ragazzi non bisogna farsi ingannare del risultato perché la partita fino al 2-0 di Lautaro è stata in bilico, non è stata una passeggiata diciamo, è stata una partita abbastanza tirata Anche se ho visto delle cose positive a livello di aggressività mi sono piaciuti di più, sulla tre quarti ringhiamano di più, però fatto sta che dopo l'1-0 se non c'era il fuorigioco della Salernitana, che giustamente c'era ed è stato fischiato, ci eravamo fatti impallinare 1-1 dopo 2-3 minuti, il che mi avrebbe fatto incazzare all'inverosimile Detto questo c'è da prendersi i tre punti, rispondiamo al Milan che ha battuto la Lazio, Milan che bisogna fargli i complimenti perché alla fine vuoi non vuoi, dopo il derby potevano avere un contracorpo psicologico importante, invece non l'hanno subito, sono riusciti a superarlo Ci hanno rimontato, siamo a pari punti, ma va bene così, non è un problema, io non ho mai pensato, non ho mai fatto la puttanata di pensare che siamo i favoriti Siamo insieme al Milan, alla Juventus, quelle che possono vincere lo Scudetto, penso quelle tre, in Napoli può farlo sicuramente, ma secondo me dopo aver vinto lo Scudetto, quei problemi che hanno alla fine incideranno Però, ragazzi, il giochetto dei giornalisti, di darci sempre strafavoriti per caricarci di pressione, io ve lo ripeterò sempre, non bisogna cascarci Così come non bisogna stare lì col fiato sul colo della squadra se dopo il primo tempo non stiamo sempre 2-0 Nel campionato italiano, in Serie A, te le devi conquistare le vittorie, te le devi conquistare i tre punti, te le devi sudare, devi essere aggressivo Non passivo come abbiamo fatto col Sassuolo, quando ci siamo abbassati troppo nel secondo tempo col blocco e gli abbiamo permesso sulla tre quarti di fare quel cazzo che volevano Bisogna essere aggressivi, attaccati, corti, mangiare sulle caviglie degli avversari, non farli ragionare Perché se tu sei compassato, fai lo sborone, gli lasci tre metri di spazio, sono sempre dei giocatori di Serie A Quello buono che ti mette la pallina lo trovi alla fine, se gli lasci sempre spazio, spazio per ragionare, per pensare Oggi mi sono piaciuti di più, anche il risultato incide alla fine del giudizio Ma va bene così, va bene così, certo ragazzi il discorso va sempre ribadito Avessimo un altro puntero, non dico del livello di Lautaro perché Lautaro costa 150 milioni minimo ormai Ma un altro puntero del livello di Turam con quella velocità, quella profondità che ti può dare quella possibilità di allungare la squadra E sarebbe tanta roba, io veramente a gennaio farei di tutto per cercare un attaccante che sappia legare il gioco Ma che abbia anche la profondità, ovvio è difficile però bisognerebbe provare perché Arnautic mi dà fiducia Sanchez, se lo paragoniamo a Correa, l'atteggiamento di Sanchez c'è un abisso Se avete visto i primi 20 minuti di Alexis Sanchez, il grande amico Ha fatto un bellissimo i primi 20-25 minuti con aggressività e tutto Poi nel secondo tempo era calato, era evidente, non ha sicuramente il ritmo partita Però come quarto attaccante Sanchez mi va benissimo Il mio problema rimane sempre quello lì Se Arnautic è il terzo attaccante, quello strutturato, quello che non ci siamo secondo me Non ci siamo perché non dà garanzie fisiche, perché comunque è in calo, perché ha 34 anni Non è Alexis Sanchez che può fare l'alta fini della situazione Entrare gli ultimi 20-30 minuti per creare un po' di scompiglio Arnautic non ce lo vedo molto entrare gli ultimi 20-30 minuti Secondo me ci vorrebbe una terza punta di livello alto che potesse essere al pari di Turame E potessero alternarsi una partita a lui e una partita a lui Comunque ragazzi vedremo Adesso concentrazione sul Benfica Benfica squadra fondamentale Per stasera ragazzi fondamentale i tre punti Fondamentale adesso pensare alla Champions Perché ci vuole una super prestazione contro una squadra molto forte Perché il Benfica è una squadra molto forte E detto questo Mutande croccantine dai stasera croccantine Non troppo croccanti perché abbiamo battuto la serenità Niente di che però 4-0 dà sempre gusto E bella raga per me c'è solo l'Inter Dai che ci facciamo una bella domenica va